bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono xyuder ragazzi terza settimana delle sfide di dead pool la prima ci chiede di trovare l'ostura cessi di dead pool dove si trova esatto nella stanza degli agenti di tina e come ovviamente è chiaro ci dobbiamo dove diamine è l'ostura cessi di tina eccolo qua ragazzi era appeso al muro era appeso al muro non si vedeva non si vedeva la seconda missione invece ragazzi è diversa ci chiede di distruggere invece proprio i cessi e questi invece sono quelli che trovate in game insomma i vc chimici sapete bene dove andare insomma ragazzi andiamo a prenderci tutto chiaro andiamo a prenderci anche oggi il regalo di dead pool noi vi ringraziamo per avere guardato questo video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi live non me ne sto andando non me ne sto andando state qui non mi parte l'altro non mi parte l'altro dei video non ciao